oggi faremo un piccolo tour con la punto gt sull'autostrada tra belgio e lussemburgo andremo prima verso lussemburgo e poi torneremo in belgio qui vediamo la gt in questa veste serale e sentiremo sull'autostrada il suo 1.4 da 136 cavalli che canta e vedremo un po' com'è guidare quest'auto in autostrada di sera questa volta ho dimenticato di salutarvi quindi salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale grazie per le vostre iscrizioni per i commenti e sono contento che la macchina vi piaccia ora vi lascio al resto del video e mi raccomando continuate a seguire i miei video su questo canale iscriviti al 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 canale